E' sicuramente tra gli eventi culturali più interessanti organizzati e patrocinati dal comune di Castrolibero, ideato da Antonello Savaglio e Amarildo Russo. Parliamo della terza edizione della Notte Crociata, rievocazione storica presentata alla stampa e che si terrà nel centro storico di Castrolibero, partendo da Piazza Pandosia dalle 16.30 a sabato 28 ottobre. La celebrazione è un momento di riflessione sull'impegno cavalleresco contemporaneo e di studio della storia locale, attraverso la teatralizzazione e il racconto dei principali eventi che hanno caratterizzato il territorio a ridosso della Valle del Crati. E' un momento magico della storia di Castelfranco, l'ingresso nel centro di Pietrantonio Sanseverino, quattro principe di Bisignano. Un uomo che ha determinato una svolta in positivo di questo territorio e noi per questo lo celebriamo, presentando agli illustri ospiti, i maggiori signori del regno napoletano del Cinquecento, quella che è l'origine di Castelfranco e i suoi momenti più importanti, nel segno di una croce, la croce di Cristo, che ci indica quelli che sono i valori più importanti del vivere di ieri e del vivere di oggi. L'evento è stato realizzato grazie ad un minuzioso lavoro di squadra che farà rivivere un momento legato alla storia del territorio. Notte Crociata torna dopo quasi dieci anni perché l'ultima edizione, quindi la seconda edizione, andò in scena il 2013. Ritorna con questa terza edizione che ci rende molto fieri di questa scelta. Partecipammo al bando indetto dal Ministero della Cultura sulle rievocazioni storiche convintamente, convinte di poter riportare nuovamente sul nostro territorio una serata, una notte, che è proprio quella della notte crociata. Per far rivivere al nostro territorio un tempo che fu, ma che ancora appartiene a noi e che va a rievocare quelle che sono le nostre più antiche tradizioni. Il primo cittadino orlandino greco ha ricordato l'impegno dell'amministrazione comunale di creare un turismo lento basato sulla storia e le tradizioni del borgo da vivere tutto l'anno. Castrolip è un'amministrazione che negli anni è stata capace di innovare, è stata capace di prevenire gli eventi e di immaginare attraverso una grande visione quello che poteva essere il brand da poter proporre per garantire un nuovo modo di concepire non solo il turismo ma il borgo in sé, un borgo storico, due passi di cosenza che diventa località turistica. Sì, perché l'attrattività non è semplicemente il mare o la sila, è un turismo lento al quale noi abbiamo puntato da sempre. E' un turismo lento che si basa sulla rievocazione delle tradizioni, della storia. La notte crociata è un esempio classico, tant'è che noi siamo stati finanziati, perché lì c'è il riappropriarsi del senso dell'appartenenza e dell'identità.